Prosegue la carrellata di presentazione dei nuovi giocatori Amaranto, Mattia Gaddini ai nostri microfoni. Allora l'impressione in questa fase di preparazione, in questa lunga estate calda e soprattutto anche quello che ne ricavi da questa prima amichevole estiva. Allora io sono molto contento diciamo di come stanno andando le cose. La prima amichevole è andata abbastanza bene, al di là del risultato che comunque non è stato dalla nostra parte. Però comunque siamo, noi veniamo da una settimana e mezzo di ritiro quindi siamo anche abbastanza carichi. Però come penso che, personalmente penso che le cose siano andate abbastanza bene. Dobbiamo trovare ovviamente un po' di condizione, un po' di gioco tra di noi. Ma comunque è poco che siamo insieme e c'è da tanto a lavorare però credo che le basi siano molto buone. Come ti sta utilizzando il mister sia in allenamento che in questa prima uscita ufficiale? Io mercoledì ho giocato esterno alto a sinistra e quindi il piede opposto che è il mio, diciamo, è quello che ho sempre fatto di più. E' dove mi trovo meglio. Però comunque sia, posso giocare anche a destra. Infatti in allenamento ci sono già stato un pochino di volte, mi ci ha provato il mister e mi trovo bene lo stesso. Quindi per me è indifferente. Io sicuramente a sinistra mi trovo meglio perché rientro con il destra. Però se mi dovesse mettere a destra io cercherò di dare il massimo anche a destra e mi piace anche giocare lì. Una squadra che si presenta in maniera autorevole perché stiamo aspettando la composizione dei gironi però l'Arezzo dovrebbe recitare un ruolo da protagonista. Beh sì, noi ovviamente il nostro obiettivo è quello di vincere, è un obiettivo forte e ci crediamo molto tutti. Infatti siamo qui per lavorare forte, per migliorare giorno dopo giorno, per diventare soprattutto un gruppo, una squadra. E' quello che stiamo cercando di fare, che sicuramente faremo e che riusciremo a fare. E' il nostro obiettivo primario ovviamente, come già detto, è quello di vincere e ci prepariamo per questo.